In ambito bancario stiamo assistendo a una rivoluzione del modello tradizionale. Verso quale direzione stanno andando gli istituti di credito? La rivoluzione internet ha spazzato via il vecchio modello delle banche basato sulle filiali tradizionali. Fatto cento le operazioni che nel 1997 il cliente faceva all'interno della filiale, ben 95 di queste operazioni oggi il cliente li fa da solo fuori della filiale. Ciò significa che le banche sono invitate, sono costrette a smontare gradualmente tutta la loro infrastruttura di immobili personali che non può essere più sopportata dalla clientela in termini di costi. A questo proposito quali sono le principali iniziative di Banca Mediolanum? Banca Mediolanum nasce già con i nuovi concetti di banca moderna, dove il rapporto con il cliente è basato sulla relazione personale con il proprio family banker. Il cliente però è il vero padrone della relazione e al cliente viene concesso di eseguire le operazioni come e quando lui crede, nella maniera più comoda, attraverso l'internet, il canale telefonico, piuttosto che il proprio cellulare. Questo direi è il quadro di riferimento. Però Banca Mediolanum continua a seguire l'evoluzione, la tecnologia non è mai ferma. Continuiamo quindi a seguire l'evoluzione soprattutto nei sistemi di pagamento, che direi è l'argomento principale di questi ultimi mesi. Seguiamo anche l'evoluzione, l'arricchimento della gamma dei prodotti in modo che i nostri clienti possano fare sempre i migliori investimenti, ma soprattutto poniamo molta, molta attenzione alla relazione con il cliente.